Natale in campo ma positivo stavolta? Sì, sì, nell'ultima partita avevamo fatto veramente male, era importante riprenderci e ci siamo riprese alla grande. Adesso abbiamo dei giorni di riposo quindi sono molto contenta. Soprattutto è un campionato piuttosto indecifrabile, cioè molto combattuto e difficile mantenere la continuità? Sì, ogni giornata ci sono dei risultati a sorpresa, quindi fino alla fine non sappiamo bene come sarà la classifica. Comunque rimane entusiasmante perché ci sono tante squadre che possono lottare e quindi speriamo di essere in forma alla fine. A piacenza una di queste? Sicuro.